Oggi voglio condividere con voi il mio personale viaggio alla ricerca dei capelli lunghi, una passione che mi accompagna da sempre. Ho sempre desiderato una chioma lunga e invidiabile, e la mia ricerca di metodi per ottenere questo risultato ha portato a nuove scoperte e riflessioni. In questo articolo vi racconterò le mie esperienze, i miei sogni e darò alcuni consigli che potrebbero essere utili a chi come me ha la stessa ambizione. Desiderio di capelli lunghi, un sogno che mi accompagna da sempre. Fin dall'adolescenza, ho sperimentato diverse lunghezze di capelli, cercando di trovare il look che mi facesse sentire davvero bene con me stessa. Tuttavia, il desiderio di capelli lunghi è sempre stato presente, e ora ho deciso di dedicare del tempo ed energie per realizzare questo sogno. Il potere dell'alimentazione, una scelta consapevole per capelli sani. La mia ricerca è iniziata con. L'attenzione all'alimentazione. Ho compreso l'importanza di una dieta equilibrata e ricca di nutrienti per sostenere la salute dei capelli. Proteine, vitamine e minerali sono diventati elementi chiave nella mia alimentazione quotidiana. Integrare alimenti come pesce, uova, frutta e verdura è diventato un passo fondamentale nel mio percorso verso capelli più sani e forti. La magia dei tagli regolari. Una scelta controintuitiva che funziona. Una delle scoperte più sorprendenti è stata la consapevolezza dell'importanza di tagliare regolarmente le punte dei capelli. Inizialmente, sembrava un'idea controintuitiva, ma ho imparato che questo aiuta a mantenere la salute generale dei capelli, riducendo la possibilità di danni e spezzature. Questi tagli regolari contribuiscono a una crescita più robusta e sana. Prodotti specifici e la lotta al calore eccessivo. Una cura mirata. Nel corso della mia ricerca, ho dedicato tempo a individuare i prodotti specifici adatti alla mia tipologia. Di capelli. Shampoo, balsami e trattamenti specifici hanno fatto la differenza nella mia routine di cura dei capelli. Inoltre, ho ridotto l'uso eccessivo di strumenti termici come l'asciugacapelli e la piastra, cercando di preservare la struttura dei capelli e ridurre i danni causati dal calore. Massaggi del cuoio capelluto. Il segreto nascosto per una crescita rigogliosa. Un altro tassello importante nella mia ricerca è stato l'introduzione di massaggi regolari al cuoio capelluto. Questa pratica non solo è rilassante, ma migliora anche la circolazione sanguigna nella zona, stimolando la crescita dei capelli. Un semplice massaggio può fare la differenza. E ho notato un miglioramento nella mia salute capillare da quando ho adottato questa abitudine. Integratori mirati, la biotina e il collagene come alleati. Sentivo parlare da tempo degli integratori per capelli, e ho deciso di integrare nella mia dieta la biotina e il collagene. Questi supplementi possono contribuire a rafforzare la struttura dei capelli e favorire la crescita. Prima di iniziare qualsiasi regime di integratori, ho consultato un professionista della salute per assicurarmi che fosse una scelta sicura e adatta alle mie esigenze personali. Gestire lo stress, un passo cruciale per capelli sani. Il ruolo dello stress sulla salute dei capelli è spesso sottovalutato. Consapevole di questo, ho cercato di incorporare tecniche di rilassamento nella mia routine quotidiana. Yoga, meditazione e attività rilassanti hanno contribuito a ridurre i livelli di stress e migliorare la salute generale dei miei capelli. Conclusioni Un viaggio in continua evoluzione. Il mio viaggio alla ricerca dei capelli lunghi è in corso, e ogni giorno è una nuova scoperta. La chiave, secondo la mia esperienza, è la coerenza e la pazienza. La crescita dei capelli è un processo che richiede tempo, ma con la giusta cura e attenzione, è possibile ottenere risultati soddisfacenti. Spero che la mia esperienza e i consigli condivisi in questo articolo possano essere d'ispirazione per chiunque stia cercando di migliorare la salute e la lunghezza dei propri capelli. Ognuno di noi è unico, e trovare la routine e i metodi adatti alla propria tipologia di capelli è la chiave per ottenere risultati positivi. Vi auguro a tutti un viaggio capillare appagante e soddisfacente. Grazie per la visione!